Nel grande fratello italiano la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha scatenato polemiche e discussioni tra i coinquilini. Dopo essersi avvicinati durante la loro esperienza al gran hermano in Spagna, il ritorno nella casa italiana è stato difficile per entrambi, soprattutto per Shaila, criticata per il suo comportamento nei confronti di Javier. Molti sembra aver fatto un passo indietro nella loro relazione. Shaila si è mostrata fin da subito come una concorrente solare e determinata, legando con Javier, ma provando anche una forte attrazione per Lorenzo. La passione tra i due è esplosa, ma ha causato tensioni con gli altri inquilini, che hanno giudicato il comportamento di Shaila scorretto. Anche Lorenzo sembra ora avere dei dubbi sulla loro relazione, dichiarando di non essere il fidanzato di Shaila e di essere libero di fare il suo percorso. Questo improvviso cambiamento di strategia da parte di Lorenzo ha sollevato molte domande sulla vera natura dei sentimenti tra lui e Shaila. Alfonso Signorini tornerà sull'argomento nella prossima puntata del Grande Fratello, dove si prevedono nuove sorprese e tensioni in casa. Resta da vedere come reagirà Shaila di fronte a questa situazione e se Lorenzo riuscirà a riguadagnare alleati tra gli altri coinquilini. La passione tra i due sembra essere messa alla prova e solo il tempo dirà come evolverà questa complicata situazione.